Ehi, guarda, c'è una recensione! Sì, è vero, perché non lo scavalchiamo? In paese ci hanno detto che si può fare. Chissà quante cose ci saranno là dietro. Eh, già, quante curiosità e quante nuove scoperte. Forza, andiamo! Altro, fermatevi, non potete soffassare la recensione. Se ce l'una vuol dire che non potrete entrare, almeno che non abbiate il permesso degli archeologi. Se venite mentre lavorano sarà fantastico! Nella baracca non ci sono oggetti di valore, ma solamente attrezzi. Infatti i reperti ritrovati vengono portati subito al sicuro. Un atto mandalico non è giusto nei confronti degli altri e della storia. Per riparare danni ci vuole impegno, fatica e molti soldi. Non è bello! Nello scavo non c'è niente risalto prezioso. Perché dovete distruggerlo? Ogni volta dobbiamo riparare i vostri danni. È vero, ma così distruggete il nostro passato e la nostra storia di vignale. È inutile rubare o distruggere, tanto fa non ci guadagnate niente. Gli archeologi hanno fatto molta fatica a trovare le perdite del passato. Non distruggeteli. Così rovinate il luogo antico, aiutateci a sconfiggere il bandalismo. Siamo qui fuori dagli scavi per dirvi che l'unica cosa che rubate è la possibilità di scoprire la storia. Voi volete sapere chi viveva qui nell'attività? Ma se lo volete sapere, non scavalcate la recensione. Entrate solo quando gli archeologi stanno lavorando. Anche se non vi importa della storia, fatelo per noi. Siamo qui fuori dagli scavi per noi. Siamo qui fuori dagli scavi per noi. Siamo qui fuori dagli scavi per noi.